Tu, spia! Dunque, così! Dunque, dunque! No, 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 no. No, 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 no. Sì, d'oro. Eppure ti trascinerò a Gaza prima che il re uccide i miei compagni. Quali compagni? Quelli che trattieni in ostaggio, greci come me. Ma tu chi sei? Mi hanno scambiato per te, non sono uno di loro. Mai avevo incontrato un avversario della tua forza. Stavo pensando la stessa cosa. Dammi ascolto. I miei compagni sono nelle mani del re e c'è una taglia sulla tua testa. Invece di batterci senza ragione, uniamoci. Libereremo i miei compagni e tu giocherai ancora una volta il re Filisteo che ti vuole morto. Quella donna, Dalila, non è Danila. Sua è stata l'idea del travestimento. E sua è stata... Stava in ascolto. Troppo tardi. Forse no. Stava in ascolto. Stava in ascolto e non è arrivata tutto. E io Stava in meno. Grazie a tutti.